Come in tutta Italia, anche nella nostra regione si sta registrando un aumento dei casi di contagio da coronavirus e oltre ai vari open day organizzati dalle ASE in diverse città marchigiane, anche voi medici di base avete deciso di intervenire, di dare un supporto alla campagna di vaccinazione. In che modo? Sì, abbiamo sentito il dovere di partecipare alla luce dei numeri, dei dati del contagio attuali che stanno evidenziando effettivamente una ripresa importante dei contagi, il numero degli ammalati è significativo. Pertanto abbiamo deciso di creare, di organizzare degli open day presso gli studi di alcuni medici di medicina generale qui a Fano, è un'iniziativa che è nata dai medici di Fano e abbiamo definito quattro possibilità, quattro date che si sviluppano dal 27 di dicembre al 29 di dicembre in vari orari. A chi sono rivolti ed è necessaria la prenotazione? La vaccinazione è aperta a tutta la cittadinanza, tutti possono accedervi liberamente, non è richiesta la prenotazione e quindi soprattutto i pazienti anziani, i pazienti fragili, gli aventi diritto, chi desidera comunque immunizzarsi, fare un richiamo della vaccinazione Covid può accedere liberamente appunto. Sono molte le richieste in questo periodo? Le richieste sì, secondo me ci sono molte persone che si sentono, sono spaventate e hanno anche un senso del dovere magari perché hanno in casa pazienti fragili. Molti pazienti fragili sono già stati vaccinati, molti medici di medicina generale hanno già fatto questa azione a domicilio, a casa del paziente. Io personalmente ho iniziato ad ottobre ma molti colleghi del territorio so che come me hanno iniziato quando praticamente è partita la campagna vaccinale per l'influenza e quindi i più fragili sono stati vaccinati, la maggior parte, forse qualcuno sarà sfuggito e quindi ci siamo sentiti proprio di offrire questa opportunità a chi magari è in difficoltà in questo momento. Ci sono più richieste, le possibilità di vaccinazione sono tante ma anche presso alcune farmacie ad esempio, ma so che i tempi di attesa sono abbastanza lunghi quindi abbiamo voluto proprio prima della fine dell'anno offrire la possibilità di avere un accesso alla vaccinazione perché credo che sia importante questo adesso in questo momento perché i picchi sono attesi per il Natale ma temo che probabilmente questo picco perdurerà per un po' di tempo anche dopo queste feste. Chi si è vaccinato un anno fa può ancora considerarsi protetto? Chi si è vaccinato un anno fa è invitato a ripetere la vaccinazione. È una vaccinazione che dà una copertura ma necessita di richiami, ce ne siamo accorti nel corso di questi anni e quindi vaccinarsi è una buona cosa assolutamente. Persone che hanno già fatto anche 4 o 5 vaccinazioni possono ammalarsi nuovamente. Oggi abbiamo anche la possibilità solo per categorie molto ristrette di utilizzare un farmaco antivirale, il Paxlovid, che è efficace, riduce l'intensità della patologia e la durata della patologia e mi è capitato più di una volta, proprio in questi giorni, di avere pazienti ai quali io non posso somministrare questo farmaco che ho vaccinato nel corso di questo ultimo mese che purtroppo si sono ammalati ma stanno facendo una malattia veramente leggera, piccolo pizzicore di gola e un raffreddore. Quindi anche in questa tipologia di pazienti può essere utile soprattutto la vaccinazione perché fa sì che qualora si sviluppasse comunque la malattia si sviluppi in maniera molto più leggera.